Allora, Michela Valenzise, una grande stagione, iniziamo così. Una grande stagione, una grande stagione colma di risultati, non ultimo quello l'accesso alle finali nazionali che svolgeremo dal 28 di giugno al 2 di luglio a Cesenatico con l'Under 14 femminile. Altri risultati importanti, il terzo posto in regione, sempre con l'Under 14 femminile e il terzo posto a livello territoriale con l'Under 16. L'obiettivo è per queste nazionali? È un obiettivo... sarà dura ma ci proveremo. Quest'anno sono fiduciosa, ho una squadra che mi segue, ho una squadra che combatte, che si allena giorno dopo giorno e speriamo di fare il meglio possibile, insomma. Speriamo di arrivare almeno sul podio. Tuoi obiettivi futuri? Sempre qua alla Mazzucchelli? Sì, sì, sempre qua alla Mazzucchelli, continuando a lavorare con i ragazzini, con i bambini piccoli, cercando di far crescere un settore giovanile che ormai sono anni che comunque mandiamo avanti, cercando di migliorare l'anno dopo l'anno per arrivare a raggiungere risultati sempre migliori. Quindi appuntamento al prossimo anno? Appuntamento al prossimo anno!